...nella slide, le cui ceneri sono conservate in piazza Duomo, questo va a significare l'attaccamento di questo artista verso la città e verso il festival e l'apporto di ogni grande artista che ha passato per Spoleto, che ha continuato a restare a contatto con il festival. Nella seconda parte della ricerca abbiamo analizzato il target e l'affluenza al festival secondo un'indagine condotta dalla stessa fondazione del festival di Spoleto nel 2011 dalla L'Orient Consulting. Secondo questi dati, infatti, non solo la maggior parte degli spettatori di Spoleto hanno manifestato pieno apprezzamento verso l'evento per il binomio, il mix fra le ambientazioni molto suggestive e la quantità e la varietà di arti e spettacoli appunto contenuti nel festival. Non solo abbiamo scoperto questo dato, ma abbiamo anche sfruttato...